Ok, allora benvenuti a tutti, siamo al secondo incontro di questo corso che stiamo organizzando qui in Edu3D sull'uso della realtà virtuale fatta con strumenti come il vostro cellulare oppure per chi può, se riesce o se ce l'ha già ad esempio, investire sull'uso di apparecchiature di visori in realtà virtuale che sono appunto Oculus Go piuttosto che Oculus Quest e altre cose simili. La settimana scorsa abbiamo fatto un... abbiamo cominciato a fare il... dunque andiamo, quindi qui abbiamo il lavoro del corso quindi la prima lezione che abbiamo fatto il 12 febbraio era sostanzialmente un'introduzione quindi come introduzione abbiamo visto molto in velocità un pochino di storia della realtà virtuale quindi abbiamo dato un po' di documenti, siamo andati a vedere la definizione di realtà virtuale alcune attrezzature antiche di realtà virtuale usate e poi abbiamo visto un po' di strumenti, cioè appunto di visori e abbiamo cercato un po' di chiarire la differenza però non so se l'abbiamo chiarita abbastanza, quindi la primissima domanda prima di partire è se vi è abbastanza chiaro o se vogliamo fare prima di cominciare un mini riepilogo sulle differenze fra i vari visori perché poi qualcuno continua ancora a chiedermi se va la pena ok, quindi dice di partire quindi se non avete dubbi su quella parte va bene perfetto l'altra cosa quindi vi ho dato un compito che è quello di realizzare una foto a 360 gradi questa foto a 360 gradi adesso non so se ce la faremo ad arrivarci stasera ma potrà essere utilizzata in un'ambientazione Unity quindi di oggi o comunque a seguito della lezione di oggi magari poi o ci sarà un video successivo dove vi farò vedere meglio ste cose ma potrà essere inserita questa foto in un'ambientazione Unity quindi l'argomento di questa lezione è in primis l'uso di Unity allora Unity quindi siete tutti pronti per partire con questo strumentone ok allora Unity se voi andate a Unity a cercarlo su Google vedete che c'è uno Unity for all e c'è da qualche parte c'è la possibilità di scaricarlo products, get started insomma c'è la parte che chiede tutte queste cose quindi quando si inizializza vi chiede ecco sembra un prodotto a pagamento infatti vi chiede dei soldi però vedete che ci sono dei vincoli nel senso che il motivo per cui si compra Unity è perché se per caso voi intendete guadagnarci quindi chi usa Unity allora Unity cos'è? è uno strumento che serve per produrre videogame in primis ma per i nostri scopi in realtà Unity è potentissimo perché ci permette di costruire ambientazioni tridimensionali e queste ambientazioni tridimensionali le possiamo poi portare e usare nei mondi virtuali quindi mondi virtuali o anche costruire insomma dei videogame educativi nostri sicuramente noi non stiamo nei limiti che loro ci chiedono infatti loro dicono elegibility dobbiamo cioè allora qui non dobbiamo avere più di 200.000 dollari nei 12 mesi e più di 200.000 però c'è anche l'individual allora business e business individual è questo quindi vedete che nella parte individual di Unity abbiamo la parte studente allora gli studenti da quello che vedo sono sempre hanno sempre la possibilità di prenderlo gratuitamente ma anche personalmente basta che non si guadagni più di 100.000 dollari in un anno allora voi guadagnate cioè con questo strumento voi pensate di guadagnare più di 100.000 dollari all'anno? credo proprio di no e quindi e quindi credo che la cosa migliore è di iniziare con un abbonamento personale ho già detto a molti di voi che in realtà a me Unity mi piace molto perché è abbastanza semplice anche se riempie molto il computer con giga gigabyte di cose ma tutto sommato io di per me preferirei un altro prodotto che sarebbe Godot Godot che tra l'altro è uscito Godot Engine questo è un motore che assomiglia tra l'altro permette di fare delle cose molto interessanti io ho fatto un corso su Godot l'anno scorso e con Godot si riescono a fare delle cose molto simili a Unity e Godot è un motore che permette di cioè praticamente mentre Unity scarica non so 5-6 gigabyte di cose da internet Godot quando lo scaricate sono mi sembra 30 megabyte quindi le dimensioni del prodotto sono completamente diverse ma la qualità realizzata sì è leggermente diversa ma in alcuni contesti può essere anche equivalente il motivo per cui non ho continuato su Godot è perché per l'applicazione in realtà virtuale con Godot ci ho provato e sono un po' mattito adesso sembra che sia migliorato ma l'anno scorso quando ci avevo provato non funzionava quasi nulla oppure funzionava solo con certi visori solo se si facevano determinate cose quindi è riuscito a perdere quindi per tagliare corto la versione personale la potete prendere dovete prima di tutto tenere un'identità quindi quando vi chiede allora qui c'è la possibilità adesso non mi ricordo anche più dov'è forse qua cioè andando qua potete creare una Unity ID e creare una Unity ID è fondamentale quindi domanda alcuni di voi l'hanno già creata se sono già creato una Unity ID perché intanto alcuni hanno già seguito dei miei corsi nei mesi passati io avevo già fatto un corso ad agosto del 2019 dove tra altre cose bisognava appunto crearsi una Unity ID quindi se dovete crearla semplicemente dovete fare il solito giro quindi tagli un'email, password, username eccetera eccetera I'm not a robot si crea una Unity ID se non sapete se ce l'avete o meno o ne costruite una nuova o insomma tanto non costa nulla è una cosa gratuita se invece ce l'avete già o volete provare a vedere se ce l'avete potete provare ad esempio c'è una Unity ID con Salazar come al solito senti eco vediamo un po' se no, in teoria non dovrei sentite l'eco voi? da me? o è solo? no allora se dunque può darsi allora quando senti l'eco? sì eh sì bisogna farla la 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 Unity ID perfetto allora una volta che avete la Unity ID dovete poi procedere allo scarico del prodotto e lo scarico del prodotto e il prodotto che si scarica è sostanzialmente quindi io direi vi suggerirei di andare a Returning Returning Users qui c'è un'opzione con Unity Personal e e qui abbiamo la possibilità di scaricare Unity Hub ok ah io ce l'ho spento il io ho spento l'audio qua sopra c'è proprio un simbolo in cui ho spento l'audio quindi l'audio da 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 Craft quindi eventualmente forse potreste farlo anche voi se avete i disturbi da Craft che c'è gente che che parla lì dentro allora quindi a questo punto scaricate Unity Hub che è un programma che gira sia su Windows che su Mac non mi risulta che giri su Linux ma non ho idea mi sembrava che una volta girasse su Linux comunque a questo punto una volta che avete installato Unity Hub quello che succede è che lanciate adesso sto lanciando Unity Hub non vi ho fatto vedere tutta l'installazione perché comunque ci impiega un po' di tempo ma in Unity Hub cosa c'avete allora Unity Hub intanto è un aiuta allora aiuta a scaricare tutti i pezzi di Unity ma non soltanto i pezzi di Unity Standard ma anche i pezzi che servono per fare applicazioni in realtà virtuali e soprattutto per nel nostro corso sarà molto importante permetterà di scaricare anche i pezzi di Android perché uno degli obiettivi di questo corso non stasera perché non ci arriveremo perché stasera parleremo soltanto di Unity sarà quello di realizzare anche un'applicazione Cardboard e Cardboard vuol dire avere un un cellulare un telefono Android è possibile in realtà anche fare dell'applicazione per iOS quindi per iPhone con Unity e il meccanismo è abbastanza uguale cioè con Unity grazie a Unity si riesce a produrre dei videogame o comunque dell'applicazione per tutte le piattaforme in maniera semplice allora quando installate Unity Hub in realtà voi non avete tutte queste cose ma le avrete vuote perché io adesso qui ho già caricato un po' di cose la cosa più importante è andare a vedere quali sono le versioni di Unity che dovete installare quindi Unity Hub è uno strumento che carica delle versioni di Unity quindi in realtà è un appoggio e permette di scegliere la versione e di far coesistere più versioni contemporaneamente in questo momento vedete che io ho scaricato la versione 2019.3.2 F1 F sta per Final quindi la versione Final 1 della 2019.3 parte 2 insomma eccetera eccetera e poi abbiamo la 2019.2.12 F1 allora in realtà è più comodo visto la 2019.3.2 F1 ma visto che stiamo parlando anche di usare Unity come strumento per entrare nei mondi virtuali e visto che stiamo facendo adesso come anche corollari al corso un po' di alfabetizzazione su Altspace VR non so se sapete che domani sera se avete voglia potete raggiungerci in questo mondo virtuale Altspace VR dove ho organizzato un abbiamo organizzato Penedo 3D e Pyramid Caffè siamo ad un incontro per vedersi in realtà virtuale un po' come alcuni di voi adesso stanno facendo qua su OpenSIM domani lo faremo alle 21.30 e su Altspace VR Allora su Altspace VR la cosa che mi aveva interessato è che c'è un preciso plug-in che permette di caricare direttamente degli ambienti da Unity su Altspace VR e però per caricarlo bisognava caricare la versione 2019 2.12 f1 Ora qui normalmente quando voi arrivate negli installs vedete che sarete bianchi hanno un'importanza più di tanto nel senso 3 f1 un po' più avanti ecco la differenza qual è? Cambia un po' di cosine fra la 2000 cioè quando cambia il numero il secondo allora il primo numero vuol dire la versione quindi da un anno all'altro lo cambiano abbastanza quindi se tu passi la 2019 a 2020 o a 2018 potrebbe cambiare un po' di cose il numero dopo viene chiamato minor number quindi il il 3 piuttosto che il 2 cambia 2-3 volte all'anno e quindi ogni 3 mesi circa possono passare dal 2019 1 al 2019 2 al 2019 3 e cambia qualcosina un po' di più e il numero quello che c'è dopo quindi dopo 2019 3 poi c'è un numerello e all'interno di quel numero di solito cambia abbastanza poco infatti quel numerello intermedio cambia molto spesso diciamo che può cambiare anche ogni settimana quindi non è necessario che uno poi man mano che paiono le versioni si debba scaricare allora per scaricare le varie versioni basta fare add e con add si può scegliere la versione che si può scaricare in questo momento come diceva Rosalia abbiamo la 2019 3 3 f1 però ci sono anche tutte le altre versioni che sono considerate allora più o meno sì nel senso che ogni volta che si installa lui scarica un bel po' di cose il però la cosa interessante è che lo fa tutto da solo infatti le LTS sono queste la 2018 4 17 f1 l'ETS e la 2017 e tra l'altro adesso sta per uscire la 2020 ora io se dovessi dirvi di installare la 2019 2 12 che qui non è presente è sufficiente andare qui vedete dove c'è visit our download archive e qui fa vedere tutte le versioni è possibile quindi voi potete selezionare quale versione volete quindi se per caso vi dicessi installate la 2019 2 io sono installato la 2.12 ma se volessi installare la 2019 2.13 faccio qua vedete che qui c'è uno unity hub e cliccando su unity hub lui apre apre unity hub e quindi mi consente di installarlo da qua dentro quindi mi presenta e mi permette di farlo quindi così avete anche un modo per installare qualunque versione di unity che vogliate fare sulla mia macchina e sulla mia rete che è molto veloce installare un'intera nuova versione di unity è un po' pesante nel senso che ci impiega può impiegarci anche mezz'ora se una macchina è un po' lenta o con la rete ancora più lenta potrebbe impiegarci anche 40 minuti o di più ma la versione che volete usare credo che allora se volete seguire quello che sto facendo adesso provate a installare la 2000 se non l'avete ancora fatto voglio dire installate la 2019 2.12 se invece avete già installato una 2018 l'ETS va bene anche quella ma dunque quella di quest'estate qual'era ma va bene anche quella comunque doveva essere una 2019 qualcosa 2019-1 giusto? io ero abbastanza incuriosito sulla 2019-3 per un solo un bice motivo che che avevano finalmente messo un'opzione per aumentare la dimensione di carattere va benissimo la 2019-2 se l'avete già scaricata quest'estate usate quella tanto come dicevo prima fra la 2019-2 di quest'estate e la 2019-2-12 le differenze sono relativamente poche cambia qualcosa forse se dovete doveste proprio andare a installare il plugin alt-space-VR ma direi che almeno per queste prime settimane non è un problema comunque giusto per per fare un esempio supponiamo che io voglia installare in questo momento una versione così vi faccio vedere almeno i primi passi così lo vediamo insieme e qui vediamo alcune domande che avete fatto la domanda è dovete installare l'android build support direi di sì perché nel nostro corso noi faremo faremo questa questa installazione ecco quello che può cambiare fra una versione tipo una 2018 forse queste mascherine sono leggermente diverse però su per giù dovreste ritrovarvi comunque supponiamo io adesso sto dicendo di installare questa versione dopodiché qualcuno di voi mi ha chiesto ma dobbiamo mettere webgl windows build e così via allora il concetto è che se volete avere fare con questo unity che voi state installando dei giochi devono girare sul web oppure devono girare su windows oppure devono girare su mac dovete ovviamente cliccare su ognuna di queste piattaforme se volete farlo su ios che vuol dire il mac l'iphone dovete cliccare questo perché è chiaro che se voi aveste un cellulare che supporta soltanto mac non potete scaricare la parte android ma dovete scaricare questa parte non so se è chiaro tra l'altro qui vi fa vedere le dimensioni quindi tenete conto che per scaricare il supporto android viene scaricato 3 4 sono 4 gigabyte solo per il supporto di android per ios abbiamo quasi 3 gigabyte quindi quanta roba più roba cliccate qua e più gigabyte vi arrivano durante l'installazione poi se volete risformare un pochino c'è c'è questa parte qua che è la documentazione insomma volendo potreste anche non caricarla però supponiamo di voler dar l'avvio a questo a questa cosa quindi dando l'avvio vi chiede l'autorizzazione on done praticamente procede e viene scaricata e qui vedete che partirà vabbè qui è scaricata da 2019 3 3 f 1 qui ho la rete molto veloce quindi lo scarico ci impiegherà poco sì è vero i vari modelli si possono aggiungere in un secondo momento ma diciamo che se lo fate all'inizio vi togliete la cosa un piccolo suggerimento che vi dimentico sempre se voi cliccate sull'ingranaggio potete dirgli dove andare a scaricare le varie cose che scarica ad esempio c'è due dischi il primo disco è piccolo quindi è opportuno che gli diciate di andarlo a installare in un posto che non vi riempia il primo disco non so se questo forse nei miei nei miei video forse l'avevo anche detto tutte le volte me lo dimentico comunque è quando parto da zero insomma va bene allora una volta che abbiamo fatto questa cosa qua dove siamo? siamo alla parte di installs abbiamo installato per dire supponiamo di aver completato questa installazione adesso lui sta facendo l'installing dunque il disco con installato in dieci no può essere anche un disco cioè un disco del vostro computer anche esterno volendo potreste metterlo se volete cioè se avete un disco da un terabyte che viene mappato come D qui potete anche dirgli di andare di andare a caricarlo di sopra non è che su quel disco deve esserci installato un Windows 10 è semplicemente un disco dove lui va a metterci delle cose poi qui c'è la parte di learn che però per il momento saltiamo se siete interessati qui ci sono dei corsi che vi insegnano ad usare Unity e invece cominciamo ad andare nel vivo allora nel vivo vuol dire andare nei progetti allora nei progetti ma per me è quasi fondamentale perché il primo disco c'è sempre gli incubi perché mi si riempie subito ce l'ho da 256 giga ma 256 giga per quando soprattutto e con Unity poi tra l'altro si fa in fretta invece poi c'è un disco secondo disco che di solito è un terabyte ssd possibilmente tra l'altro ultimamente cominciano a costare di meno quindi lavorate su quello allora progetti quindi cosa facciamo costruiamo un nuovo progetto soprattutto se avete più di una versione di Unity attivo vi conviene non cliccare su new ma cliccare sulla freccina così potete selezionare quale Unity usare se ne avete uno solo non è importante ma nel mio nel mio caso voglio fare un progetto 2012 2 12 f1 quindi clicco su new qua clicco su 2012 2 12 f1 e a questo punto mi si presenta la possibilità di dire che progetto facciamo allora tutti i nostri progetti sono progetti 3D e il nostro progetto 3D sarà vediamo un nome gli diciamo dove gli diciamo dove deve essere inserito sempre come notate gli dico sempre il secondo disco che ho e poi qua gli scrivo ad esempio corso e oggi che cos'è il 26 sì corso 26 febbraio a quel punto si fa create e poi bisogna avere molta pazienza perché la prima volta che si crea un progetto ci si impiega un bel po' di tempo sul mio computer che è abbastanza carrozzato ci impiegherà 2-3 minuti sul vostro computer può darsi che ci impieghi di più le volte successive ci impiegherà sempre tantino ma molto di meno che la prima volta ok allora adesso quando lui avrà deciso che parte ok ci concentreremo sul allora qui vabbè ci sono i project settings ma noi vediamo questa interfaccia l'interfaccia che vedete è un'interfaccia che è grigia su grigetto che a me fa abbastanza orrore perché non leggo benissimo i font allora in realtà ci sarebbe la possibilità di averla in con con una diciamo contrasto più alto infatti c'è quelli i fighi diciamo su youtube eccetera di solito ce l'hanno nera per due motivi o perché ce la sono comprata unity quindi hanno la oppure perché hanno fatto un piccolo crack cioè c'è un piccolo crack che consente di averlo nera a me sì ho provato anche a crackarlo non è molto banale non è molto semplice da crackare quindi diciamo che teniamocelo grigio va bene ora chi di voi conosce Blender tra i presenti qui al corso o meglio chi tra voi non lo conosce Blender vediamo un po' mi sentite vero sempre io non vedo attività perché tu allora Susanna ovviamente la conosce sì perché da parecchio che si seguono allora unity ecco bravo vedo che cominciano a essere no però era solo per dirvi che l'interfaccia l'interfaccia di unity assomiglia un pochino a quella di Blender ma non è obbligatorio conoscere Blender per usare non è obbligatorio conoscere Blender per usare Unity e per certi versi è più facile di Blender per alcune parti invece è un pochino più complesso ma soprattutto perché è più potente nel senso che può permettere di costruire delle applicazioni un po' più impegnative comunque cancellate Blender sappiate che comunque tutti questi questi software di modellazione modellazione 3D hanno una struttura simile solo per quello che lo dicevo quindi chi viene da Blender un po' potrebbe trovarsi a suo agio chi non lo conosce lo impare e vabbè non c'è niente di particolare quindi cosa c'è da dire allora che abbiamo una finestra vedete che abbiamo una finestra centrale tra l'altro qui se volete potete ampliare le finestre e la finestra più importante che si vede è questa finestra che si chiama non più più che il game diciamo la scena chiamavano in italiano anche non riesco mai a pronunciarlo scena sin quindi quella la pronuncio in italiano scusate quindi la scena è il game o il gioco quindi nella scena è quella dove voi andrete poi a operare allora nella scena ci sono gli oggetti che andranno a costituire il vostro mondo 3D quindi il vostro mondo 3D sarà un appartamento una città una scatola un pavimento insomma cosette del genere un cubo di solito quando si entra ad esempio in Blender esce un cubo però se venite anche da Blender lo sapete che c'è sempre nella scena ci sono degli oggetti che sono il cubo che c'è sempre adesso lo metteremo anche qua così sentiremo a nostro agio e poi c'è una telecamera e una luce non so se la vedete questi oggetti si vedono anche qua dove c'è una hierarchy c'è una gerarchia di oggetti la gerarchia di oggetti che sta qua indica praticamente quali sono gli oggetti che fanno parte della scena e in questo caso c'è una main camera vedete che se io clicco main camera mi compaiono che cosa? mi compaiono le freccette per dire che posso modificarla mi compare anche una camera preview che mi fa vedere che cosa sta vedendo la telecamera e la telecamera la posso muovere spostando le freccette quindi chi di voi magari conosce anche Second Life sa che è una cosa abbastanza comune quindi posso muovere la telecamera però visto che non c'è molto da vedere cominciamo a inserirci un cubo vi ho detto e come facciamo ad inserirci un cubo andiamo su GameObject quindi tutti gli oggetti che andiamo a mettere nella nostra scena si chiamano in Unity GameObject quindi sono oggetti del gioco e qui andiamo a inserire un 3D object e qui andiamo a mettere un cubo e qui vedete che abbiamo il cubo quindi nel momento in cui abbiamo il cubo possiamo spostarlo a piacimento e possiamo anche farci dei mestieri sopra quindi adesso vediamo vedremo tra poco altre possibilità ma oltre quindi questo qui è il nostro cubo e poi mettiamo anche un pavimento che è la scena minima quindi creiamo un 3D object che sarà un plane piano questo vedete che il piano è messo a metà del cubo quindi lo abbasso in modo tale che il cubo sia proprio sotto sopra il piano questo qui è diciamo la scena elementare più semplice quindi abbiamo un cubo un plane che è questo qui e il plane magari possiamo anche fare f2 e chiamarlo pavimento e quindi abbiamo questa struttura allora la cosa importante è che quello che noi stiamo facendo adesso è una scena e viene salvata sotto una cartella che si chiama questa è una cartella esattamente come se fossimo su una cartella del vostro computer sono strutturate quindi assets eccetera eccetera quando avete creato il progetto gli avete detto il nome del progetto e la cartella dove era creato il progetto e se voi fate tasto destro su assets e poi andate show in explorer qui vedete che abbiamo gappsunity e dove gli avete detto di mettere il vostro progetto poi avete dato il nome del progetto che era corso il 26 febbraio e poi sotto il nome del progetto ci sono tutte le cartelle che stiamo analizzando adesso quindi ci sono gli assets che sono questi qua e sotto gli assets abbiamo vedete le scene quindi le scene sono qua sotto ok ora fin qui è tutto chiaro quindi come la geografia insomma di un progetto unity cioè il fatto che tutto ciò che noi facciamo vi compare dentro a quella cartella e dentro a quella cartella ci sono i vari oggetti questo qui è il default ma il consiglio che io faccio a tutti è di strutturare il vostro progetto in modo tale da avere le cartelle messe in un modo pochino migliore e il modo che ho visto anche suggerire è quello di creare quindi se voi andate qua sugli assets e fate create folder gli fate un folder c'è una cartella la chiamate project e sotto questa cartella dunque Susanna vedi tutto sfocato ah sì sì Godot è molto simile infatti Godot è fatto come quello Susanna se vedi male ti consiglio magari di riuscire a rientrare in zoom che a volte fa miglior apparecchio comunque in teoria se la registrazione va a buon fine dovremmo farcela sì diciamo che come Godot però è un pochino più raffinato è un pochino più raffinato di Godot nel senso che Godot ha più o meno queste cose qua ma sono un pochino più rozze sia perché Godot ha meno gigabyte quindi è obbligato a fare tante cose con pochi byte e sia anche perché in Godot ci lavorano non so qualche decinaio di programmatori mentre invece su Unity ci lavorano credo centinaia se non migliaia di programmatori quindi c'è molta più forza lavoro insomma allora io suggerisco di lavorare sempre sotto project per un motivo perché poi quando a un certo punto della vostra esperienza di Unity andrete a caricare dei plugin delle cose insomma che vi permetteranno di fare tante altre cose queste altre cose si misceleranno sotto gli assets e andranno con delle cartelle separate quindi a volte non è facile sapere cos'è vostro e cos'è del plugin e quindi tutte le scene vostre vi consiglio di mettere quindi trascinate questo io ho trascinato le scene sotto project in questo modo noi abbiamo assets project e scene sotto scene c'è questa simple scene questa scena semplice e questa scena tra l'altro potete fare ctrl s per salvarla avete che sparisce l'asterisco e avete la scena se volete cambiare il nome potete semplicemente fare f2 non l'ho presa però tasto destro forse lo si può fare da qua si può fare f2 da qua la chiamiamo prima scena ok quindi si ricarica tutto abbiamo la prima scena e gli avete cambiato nome per cambiare il nome si fra qua ora in un progetto ci sono le scene le scene avete capito cos'è la scena è una cartella appunto che contiene tutta una serie di oggetti che fa parte di un'ambientazione però molto spesso dentro il progetto mettiamo anche delle cose che sono i materiali quindi cosa facciamo facciamo una cartella che chiamo materials usiamo la la funzione inglese e sotto i materials mettiamo i materiali allora i materiali cosa sono? servono qualcosa per dare un pochino di lustro diciamo qui non si capisce niente qui c'è un cubo sotto sopra un un pavimento però meglio dare un colore allora il colore è un materiale quindi si coloriamo un po' queste cose quindi per colorare dobbiamo crearci un materiale quindi qui andiamo sotto material e creiamo un materiale che per il momento sia ad esempio verde verde perché? perché voglio dipingere il pavimento di verde come faccio effettivamente a metterci il colore? devo andare sul verde doppio clic e qui vado su inspector su inspector che voi probabilmente ce l'avete già di ufficio e qui abbiamo una cosa caratteristica che è qui vedete che qui c'è proprio cliccando qua c'è un colore che in questo momento è bianco se io lo clicco mi compare questa finestrella e posso decidere di farla verde quindi clicco qua e poi sposto questo oggetto cioè questo pallino in modo tale sia più o meno chiaro o più o meno scuro a seconda del tipo di verde che vogliamo lo voglio bello brillante qui è descritta la parte di rosso di verde e di blu e a questo punto abbiamo fatto il verde a questo punto se vogliamo colorare il pavimento di verde è sufficiente trascinare questo verde sul pavimento e abbiamo direttamente il colore verde se vogliamo dipingere di un colore diverso il cubo dobbiamo avere un altro materiale che sia di un colore diverso quindi vado qua e faccio qui non c'era un duplicate però faccio ctrl d credo ctrl d ecco ctrl d come più o meno in in blender ci duplica e quindi abbiamo un verde un verde 1 ma il verde 1 facciamo f2 e lo facciamo diventare rosso però per essere veramente rosso dobbiamo cliccare andare sull'inspector e modificargli il colore a un colore che sia più o meno rosso tipo questo e poi prendo il rosso e lo sposto sul nostro cubo come vi sembra come cosa per io chiedo sempre un pochino di feedback questo si va a copia e incolla se volete invece mettere delle texture le texture le mettiamo ecco facciamo quindi scarichiamo da internet delle texture quindi prendiamo avete delle avete delle preferenze su una texture? sì tra l'altro ricordatevi tutte le volte quando fate queste cose qua di fare poi il salva quindi qui dovete fare file save per salvare la scena e save project a volte poi questa cosa qua può sì bene sono tutte cose abbastanza semplici allora comunque andiamo a prendere una texture texture prendiamo ad esempio questa questa texture vediamo un po' free crumpled paper texture questa no? questa qui vediamo un po' se ce la facciamo scaricare questa texture forse ce la fa anche scaricare facciamo save image as e la andiamo a scaricare direttamente dentro il nostro progetto quindi andiamo sotto unity g unity e la no non era qua g ah apps unity forse vedete che mi dimentico sempre dove ecco g apps unity e abbiamo il nostro corso 26 febbraio andiamo sotto assets qui vedete che c'era il nostro project qui c'era materials scenes e le texture possiamo trattarle come fossero dei materials quindi mettiamolo qua quindi sotto i materials mettiamo questa texture volendo potete anche creare un folder per le texture crumple paper texture facciamo salva ecco qui vediamo una prima cosa che vi faccio notare nel senso noi abbiamo salvato un'immagine dentro le cartelle di unity quindi quando entriamo dentro unity lui se ne accorge istantaneamente cioè praticamente qui tutte le cose che facciamo hanno un effetto istantaneo e qui se vogliamo fare un materiale con questa texture in realtà dobbiamo proprio fare un altro materiale quindi qui dobbiamo fare un create material questo e questo che facciamo carta e poi dobbiamo mettergli ecco purtroppo sarebbe stato bello che lo prendeva magari c'è qualcosa di interessante però possiamo prendere crumple paper e lo mettiamo qui dove dice albedo albedo se ho la pronuncia esatta albedo è praticamente un modo in cui si indica la texture semplice semplice vuol dire senza rilievo senza riflessi senza normal map senza occlusion senza niente quindi albedo è proprio l'immagine pura quindi noi prendiamo rendo cliccato su carta ci si apre il inspector e qui c'è un pezzo che in questo momento è grigino e noi possiamo metterci la cartina qua sotto albedo ed ecco che abbiamo fatto vedete qua qui ci fa vedere sotto la nostra texture carta se noi mettessimo avessimo una normal map questo sul pavimento però se lo metti sul pavimento sì l'ha preso però probabilmente comunque la prende se lo fa se lo fa tutto di guadagnato perché l'idea appunto era quella di avere la carta e trascinare la carta quindi ah no perché ha creato una cartella sotto con la texture quindi si è creato un materiale vedi che è bravissimo quindi in realtà sì sì bello imparo anch'io infatti il senso è questo cancelliamo il materiale che ho fatto cancelliamo cancelliamo anche la cartella che ha fatto lui in delete e poi prendiamo questa crumblet paper facciamo come avete fatto voi e vedete che lui ha creato una cartella e dentro questa cartella di materiale ci ha messo ci ha messo il materiale che avete fatto quindi è un modo l'unica cosa che qui in questo caso c'è raddoppiato materials per se perché lui pensava di farla in quel modo lì e poi se andiamo a prendere un altro materiale un pochino più interessante quindi una io fin da prima prendevo delle dei miei corsi facevo tipo delle rose prendiamo una rose questa rosa save image as la salviamo sempre qua rosier edit pf quindi ce la troviamo qui la rosa quindi a questo punto se la rosa la mettiamo sul nostro cubo vedete che ci ha texturizzato il cubo quindi direi che direi che rispetto a a blender mi sembra un pochino più semplice giusto? voi cosa ne pensate? chi di voi ha usato blender? ok ricordate poi ogni tanto di salvare le cose quindi abbiamo fatto i nostri materiali quindi con questo materiale voi potete fare le varie cose ora il discorso poi entra in scena quando dobbiamo fare le luci quindi qui abbiamo una luce che in questo momento vedete che è questa e la luce vedete che è una luce che possiamo muovere e in funzione di dov'è insomma indica dove ci saranno le ombre ok allora la cosa interessante che state notando è proprio l'inversione cioè la z è orizzontale mentre invece in blender o anche in second life è verticale questa è una prima cosa a cui dovrete abituare x y e z quindi la x è laterale quindi a sinistra a destra e questo perché secondo alcuni meccanismi di rappresentazione tridimensionale il piano ha l'asse x y perché in effetti è intuitivo che quando avete un quaderno c'è l'x e la y proprio davanti a voi sul piano anzi no al contrario state guardando il quaderno quindi la x e la y sono fatte praticamente davanti a voi e poi la z è la profondità di quando lo guardate e quindi la profondità non è in altetta e purtroppo ogni volta che cambiate da second life o da o da blender vedrete questo questa cosa curiosa ora a questo punto far vediamo un po' se è possibile mi sembrava di ricordare che facesse l'ombra ma magari non mi ricordo più come la fa l'ombra però l'ombra la fa in funzione della luce vedete che qui la luce è direzionale directional light vuol dire che arriva in questa direzione quindi si deve fare ombre le ombre le fa praticamente in questo modo se vogliamo ruotare qualche cosa dobbiamo usare questi altri strumenti quindi possiamo se vogliamo ruotare il cubo andiamo sul cubo clicchiamo qui dove ci sono le rotazioni e poi qui lo ruotiamo vedete che possiamo ruotare il cubo quindi farlo più o meno se lo vogliamo ingrandire possiamo andare qua e poi ingrandire verso l'alto appiattire quindi per dire avere un piano anche lui ctrl z torniamo indietro oppure andando in centro possiamo ingrandirlo tutto dunque fare l'UV mapping sulla texture è un pochino più impegnativo ci sono dei tool è un po' meno attrezzato per fare queste cose ma ho fatto un video tra l'altro qualche settimana fa in cui ho presentato un plugin che permette proprio di fare l'UV map diciamo che in partenza Unity non è proprio progettato per lavorare sulle UV map quindi si pensa che queste cose vengono fatte fuori quindi questo è uno dei motivi che vediamo nel senso che di solito molte delle scene che si usano in Unity vengono fatte da Blender o da altri programmi e poi in Unity vengono soltanto poi spostate ma non costruite da zero anche se ci sono dei plugin che io ho anche guardato molto carini che permettono di fare tutto dentro Unity quindi dimenticando Blender però hanno anche loro le loro complicazioni quindi vedete abbiamo possiamo muovere le cose che vogliamo e abbiamo poi quest'altra la facciamo mettiamola di nuovo orizzontale così ok facciamo ah tra parentesi vedete che qui visto che è sempre un casino andare fino lassù si può usare la tastiera per avere allora Q vedete che va in clicca su questo tasto W clicca sulle freccine E per la rotazione R per la scala poi T per questa modalità questa modalità tra l'altro è abbastanza carina che permette di alzare abbassare questa è una cosa che manca in Blender che permette sì Q Verti nel senso che i tasti della seconda fila sono un'abbreviazione per poter arrivare direttamente su queste feature e questo pezzo qua Rectangle Tool è anche interessante perché permette praticamente di muovere cioè se voi toccate verso il centro praticamente muovete l'oggetto ma se voi toccate vicino dove c'è questa cioè dove c'è questo questo quadrato no? Praticamente siete in grado di modificare le dimensioni no? di questo c'è anche un modo che ho imparato ma adesso mi sfugge per cambiare la eh avevo fatto un video adesso non ci ho dimenticato comunque diciamo che si può fare tutto con questi tre strumenti cioè con posizione con la rotazione e con con questo modo va bene? allora magari lo rimettiamo ah tra parentesi tutte le opzioni che sono qua le trovate anche sull'inspector qua quindi qui la scala la trovate qua vedete che qui c'è scritto 3 3 2 quindi se la scala la volete piazzare potete mettere ad esempio 1 1 1 e avete un cubo alto 1 largo 1 eccetera rotation in gradi se volete ruotarlo di 45 gradi lungo attorno la y mettete 45 e lui si ruota dove la y è verticale z eccetera e qui anche la posizione nel senso che se volete spostarlo quindi se mettete qui ad esempio 3 vedete che si alza se mettete 0 si abbassa e quindi questo transform è quello che ci permette di lavorare con il cubo ok quindi c'è il c'è questa impostazione questo è il piano abbiamo qui e abbiamo fatto eccetera ok poi una cosa nel movimento all'interno vedete che io posso muovere la rotellina avvicinandomi e allontanandomi posso anche muovere praticamente se io vado qua e poi dovrebbe poterlo fare no era Blender che lo faceva no allora qui a parte questo questo movimento qua ci sono alcune cose fondamentali che sono il tasto destro vedete che quando premo il tasto destro compaiono vedete che c'è un una specie di freccina cioè c'è l'occhio che dice che ci sto posso muovermi attorno all'oggetto e poi ci sono quei quattro quadratini quei quattro quadratini rappresentano la SD A W SD praticamente ci sono i quattro tastini che trovate sulla tastiera nel senso che se io faccio mentre tengo premuto il tasto destro del mouse faccio W mi allontano e mi avvicino e quindi posso navigare praticamente posso navigare come se fosse in un videogame questo può permettere praticamente di esplorare il nostro ambiente e poi c'è un aspettate se premo alt da solo invece e muovo col tasto destro mi allontano e mi avvicino col tasto sinistro invece orbito attorno all'oggetto se non si usa il mouse si è un pochino sfortunati come in Blender sarebbe meglio usare il mouse ci sono probabilmente sostituti anche la tastiera allora se avete perso l'oggetto ad esempio il cubo basta che facciate doppio clic sulla gerarchia qua e lui vi rifocusa su quell'oggetto oppure cliccate sull'oggettino e fate F dovrebbe essere F e vi fa su un pezzettino dell'oggetto ad esempio adesso se io per dire sono in una situazione in cui vedo strano clicco questo piano e poi scrivo F lui fa il focus sull'oggetto e vi permette quindi di vedere pienamente l'oggetto dentro la scena ora tenete conto che adesso questo corso che sto facendo voi la vista di default come si ripristina ah boh ci sarà un modo forse no ci sarà un modo per ripristinare quella di default anche io ogni tanto me la perdo ma non non so risponderti ci deve essere un modo per farlo va beh facciamo perdere ah se ti è scombinata la vista ah la vista con tutte queste cose qua sai che non lo so non te lo so dire comunque se cercate se cercate poi su internet magari dopo tra l'altro adesso siamo già quasi a un'ora quindi non andremo avanti ancora molto lungo ma vi dicevo non è che io vi debba spiegare tutto la rava la fava adesso di tutto era solo per farvi vedere le primissime cose e poi mi aspetterei che andiate avanti anche voi tra l'altro ci sono anche dei corsi di unit anche in italiano se trovate in giro o se conoscete l'inglese ci sono un sacco di materiale in inglese che spiega come si lavora in unity però prima di abbandonare vediamo l'idea di fondo era beh intanto farvi vedere questa è la scena ma in realtà abbiamo game allora con game vedete che vedete il ciò che vedrebbe la la telecamera quindi la telecamera in questo momento vede soltanto soltanto il cubo il gioco per farlo per farlo diciamo funzionare abbiamo un play quindi se facciamo un play praticamente cosa fa? viene preso il gioco e vi fa vedere quello che vede la telecamera e poi ricliccando si torna invece in modalità scena adesso con questa scena che stiamo vedendo adesso c'è poco da vedere nel senso che c'è la telecamera ferma eccetera però poi pian pianino si vedranno perché ci sono delle applicazioni che consentono di far ruotare il cubo e cose simili quindi si possono agganciare degli script insomma gli script sono non banalissimi ma comunque neanche tanto impossibili e cose simili una cosa che volevo farvi notare invece è il lighting allora questo lighting voi non lo vedete perché io l'ho praticamente l'ho messo qui in maniera arbitraria nel senso che è una finestra che normalmente si accede adesso chissà come ah come no lighting settings si accede da qua e quando si fa lighting settings viene fuori non possiamo far vedere viene fuori praticamente una finestrella così adesso rimettiamo come ce l'avrete voi nel senso da windows general no rendering lighting settings e da qua si possono impostare i lighting settings ma io avere tutte queste finestre che mi che mi compaiono all'improvviso davanti mi piace poco quindi prendo questa finestra e la posso collocare qua che mi piace avere il lighting qua stessa cosa si può fare anche per tutte le altre finestre che eventualmente mi compaiono se volete metterla in un posto di vostro gradimento ora nel lighting la cosa interessante è che si può cambiare lo skybox e lo skybox qua è quello che permette di mettere le vostre immagini a 360 gradi allora come ho fatto a spostarla semplicemente l'ho cliccata trascinata e sto facendo il mestiere inverso così praticamente sono tornato all'origine delle cose quindi non c'è io la faccio apparire andandola a selezionare con rendering lighting settings e mi compare questa finestra a questo punto per spostarla ho semplicemente preso il tab l'ho cliccata e lei si restringe poi la sposto trascinandola e la metto nel dove mi piacerebbe che sia avete capito come funziona sì comunque poi in venga rivedi anche il video lighting quindi funziona e quindi a questo punto dobbiamo avere uno skybox allora lo skybox è un qualche cosa che possiamo tenerlo anche qua quindi c'è un materiale che ci servirà per fare lo skybox quindi qui possiamo fare un create e vediamo se mi ricordo perché l'ho fatto un'attima fa ma non mi ricordo quindi facciamo un materiale questo materiale lo facciamo skybox e in questo skybox che è qua inspector vedete che ho cliccato su skybox qui c'è scritto il tipo di shader sapete che non mi viene quindi opaco lo rifaccio ma comunque ho fatto già il video magari ve lo ripresento comunque l'idea è ve lo farò poi vedere con il video ve lo ripresento perché l'ho già fatto il video ah dov'è lo skybox fammi vedere ah eccola qua skybox grazie perfetto allora andiamo sul panoramic grazie mille Lucia quindi panoramic ok allora quando abbiamo il panoramic vedete che qui chiede una spherical quindi voi potete prendere una delle foto vostre sferiche oppure ne potete prendere hdr vuol dire high dynamic resolution però va bene anche non non hdr quindi se voi avete un'immagine sferica la potete prendere quindi tipo quelle che abbiamo fatto la settima scorsa quindi hdr 360 images hdr vedete che ci sono queste immagini qua le fatte che usavo che sono simili a quelle che esempio questa qua vediamo un po' se riusciamo a trovarla vabbè questa qui magari è pavimento vediamo un po' c'era hdr e heaven che avevo visto ecco qua hdr heaven che è un sito vabbè poi anche quelle che abbiamo visto con street view sono quindi un po' se riusciamo a prenderne qui sono tutte cc0 hdr ok qui abbiamo natura e poi abbiamo ad esempio questa cosa qua questa qua è un po' se riusciamo autumn scegliamo le risoluzioni basse sì sì potete mettere la vostra ovviamente comunque una volta che li avete scelto avete preso una foto questa è appunto hdr quindi fatta apposta ma anche le vostre dovrebbero andare bene in teoria queste qui fate lo stesso mestiere di prima quindi aprite il vostro progetto aprite dove qui dove stavate vediamo un po' se ce la faccio non ce la farò mai allora la sposto qua autumn park hdr quindi prendo la trascido e la metto qua vedete l'abbiamo messa a questo punto questa autumn park la mettiamo nella sferica l'hdr di questa e abbiamo messo vedete e tra l'altro ti fa vedere qua un preview della nostra foto sferica quindi potete anche vedere se è una foto sferica vera oppure finta e poi cosa succede che a questo punto questa cosa qua la potete infilare nel lighting perché nel lighting vedete che c'è un skybox material c'è un default skybox ma voi potete mettergli il vostro materiale questo quindi prendete questo e lo mettete qua e come vedete abbiamo cominciamo ad avere delle cose interessanti non so se avete capito che cosa ho fatto volete che lo ve lo rifaccio vedere questa cosa notate che sembra un pochino con torta ma la stessa cosa fatta in blender si può fare ovviamente ma è un filo più complicato anche nella versione nuova nel senso che bisogna stare lì insomma invece qui invece qui diciamo è abbastanza a matrioshche le chiamo io però comunque allora sentite il concetto è quello che dovete avere un materiale in cui ci avete messo la vostra immagine a 360 gradi poi questo materiale lo mettete qui nello skybox material quindi qui ad esempio tra l'altro qui skybox tra l'altro se io clicco skybox vedete che si illumina e fa vedere dove sta è come l'oggetto che sta facendo lo skybox questo lighting non ce l'avete voi quindi per ottenerlo ho dovuto prenderlo da rendering lighting settings e qui ho messo il skybox qua sopra poi tra l'altro qui si può fare un po' di cose ma per il momento lasciamo le stare e adesso vediamo invece il pezzo che magari vi interessa che andiamo in scena allora mi confondo ok torniamo sulla nostra sulla nostra effetto ok siamo alla nostra scena ora a questo punto vi faccio vedere come ho fatto il mio APK perché è quello che vi interessa sapere come ho fatto l'APK l'unica differenza non ce la farò farvi vedere il cubo che ruota magari la vediamo la prossima volta oppure magari su facebook comunque una volta che avete questa scena dovete costruire dovete semplicemente fare il deploy su android allora per fare il deploy su android bisogna fare un po' di giretti e in particolare vediamo un po' se mi ricordo andiamo su project settings speriamo che sia quello ok project settings ah no non è ancora qua cioè c'è la parte di android però voi ce l'avete aspetta build and run dovrebbe essere vediamo un po' dove sta aiutatemi a trovarlo perché io sono cieco in queste cose ah build settings quindi voi andate su build settings quando siete su build settings dovete cliccare su android piuttosto che su ios o quello che ma non interessa android e quando avete cliccato su android fate switch platform e si posiziona sulla piattaforma android e fa un po' di mestilini aspetta che ci impiega il suo tempo e oltretutto fa prende tutte le immagini che abbiamo messo e le adatta alla bisogna ok dopodiché dovete si va sui player settings e sui player settings si va vedete sulla finestrina di android che è questa che vi compare a questo punto e qui ci sono un po' di cose da impostare purtroppo c'è un po' di roba quindi la cosa minima che vuole è l'android level che mi sembra che vuole almeno 19 se non vado errato quindi minimum ap level 19 vediamo un po' qui dovrebbe esserci other settings e poi qui dovete dunque per la realtà virtuale bisogna fare xr settings xr settings bisogna dirgli se si vuole sviluppare per la realtà virtuale quindi si mette un click qua poi bisogna dirgli per quale realtà virtuale vogliamo lavorare noi vogliamo lavorare su cardboard però se voi avete un oculus andate qua se volete fare realtà aumentata andate qua su wphoria tra l'altro ecco una cosa che mi aveva terrorizzato a un certo punto che stavo facendo anche realtà virtuale è realtà aumentata è che nell'ultima versione 2019 non c'è più wphoria e ho scoperto che bisogna poi installarlo come plugin comunque voi mettete cardboard e a questo punto lui fa tutti i suoi mestieri vi dà un po' di cose tipo xr non è sopportato se c'è la vulcan graphics quindi bisogna andare su other settings che è qua su da qualche parte other settings e bisogna togliere vulcan quindi bisogna andare su vulcan fare meno insomma c'è un po' la prima volta io mi ero spaventato a vedere sta roba qua però diciamo che non è niente di impossibile insomma poi una volta ha fatto un paio di volte ci si abitua quindi torniamo vabbè supponiamo che questo sia fatto poi qui potete metterci il vostro nome cognome lo splash screen insomma tutta una serie di cosette interessanti una volta che avete fatto questa cosa basta fare il build intanto bisogna mettere la scena da buildare quindi scena in build fate and open scene e rimette quella che avete aperto che è project scene e prima scena e poi fate questa bellissima build allora facendo la prima build andate qua e qui suggerirei di creare un nuovo cartella che chiamiamo build o builds forse facciamo builds plurale visto che sono tutte e magari anche con la lettera iniziale maiuscola builds e allora niente si è piantato voi mi sentite sempre ok builds non so si è piantato tutto e qui si ma anche non mi ricordo come avete visto sto andando totalmente alla rinfusa perché io per la mia dislessia per me tutti questi passaggi me li dimentico ogni 20 cioè dopo due secondi che le ho fatte mi sono già dimenticati però uno va un po' e fruga e poi magari se uno riesce veramente a farli 20.000 volte quindi sotto il nome del corso builds gli mette la pick up ma tutti più o meno siamo dislessici e poi qua sotto builds gli mettete il nome del vostro pick up gli mettiamo sala zar punto pick up si fa salva e quindi lui a questo punto procede a generare la pick up vedete che fa tutto lui quindi la cosa impressionante di unity è che voi non dovete fare niente dovete solo selezionare un po' di cosette e poi gli dite cliccate in pulsante e lui fa trita in realtà avrebbe anche la possibilità di scaricarlo direttamente sul vostro cellulare ma questa è una parte che preferisco non farvi vedere non adesso magari allora qui perché fa un po' di cose quindi diciamo tac quindi lui come vedete unity tutte le cose che fa unity ci impiegano il suo tempo perché fa veramente tantissime cose tra l'altro io mi ricordo che avevo cominciato a sviluppare per Android forse otto anni fa e avevo abbandonato subito perché per sviluppare su Android bisognava scaricare l'NDK l'SDK il Java il PIPO il Pluto il Sempronio insomma tutta una serie di programmi ah sì poi c'era anche un Android Studio una cosa tutta complicatissima alla fine installavo e non funzionava mai niente perché quello l'avevo installato ma era la versione 1 l'altro la versione 5 questo era 7 questo era 16 bit l'altro era 92 bit e conclusione non funzionava mai ecco vedete adesso io la Pk ce l'ho pronto ed è qua sarà 0.pk ora questo sarà 0.pk è pronto per essere trasferito sul vostro cellulare io come ho fatto chi di voi ha seguito i miei corsi negli anni passati sa che avevo spiegato che c'era un modo per metterlo su un sito adesso purtroppo stiamo andando fuori tempo lo approfondiremo un attimino comunque se voi lo mettete in un sito esterno oppure lo mandatevi a me ecco un'altra cosa potrebbe essere c'è stato un momento in cui lo mandavo via email cioè lo prendevo andavo nella mia email me lo spedivo via email e poi da cellulare me lo quando lo ricevevo si apriva l'email c'era l'attachment e poi lo privi dell'attachment dell'email questo è un modo che secondo me almeno all'inizio può essere un po' lunghetto ma comunque interessante oppure un altro sistema ancora può essere quello di fare doppio click io qui ho installato un'applicazione che si chiama NOX che è un emulatore di Android anche se insomma trovate un sistema per farlo arrivare in qualche modo sul vostro cellulare ok vediamo se questo funziona dovrebbe l'ha installato e qui fa vedere quello che farebbe vedere ecco vedete che così questo è quello che voi vedreste sul vostro cellulare vedete cosa si vedrebbe sul vostro Android si vede questa immagine qua tra l'altro adesso qui non si capisce perché non riesco in questo se non hai un Android lo sviluppi per il tuo iOS ad esempio tu hai Mac e fai invece di scaricare la parte di iOS lo lo fai nell'altro sistema però io purtroppo non l'ho mai fatto ho visto che qualcuno aveva provato a farlo e c'era qualche piccola cosa che comunque con un po' di internet si riesce a risolverlo ma il risultato finale è molto simile cioè si ottiene un'applicazione che gira sul che praticamente invece di fare ah eri tu che non eri riuscita forse me l'avevi chiesto ma purtroppo io non ce l'ho un iPhone quindi non direi che potete andare su internet e vedere se trovate il materiale io non mi compro un iPhone per fare questa prova rispiegare come si inserisce lo sfondo 360 no no adesso lo dicevo solo così sarei anche tentato di farlo perché il Mac me lo sono comprato comunque comunque dai invece invece se ti dico a te prenderti un un Android in realtà lo puoi fare perché ci sono degli Android che costano molto poco lo stesso non si può dire allora chi mi ha chiesto di rifare la spiegazione del comunque in ogni caso basta nel tuo caso basta che vai su iOS fai switch platform però vedi che a me non me lo lascia fare la switch perché non ho scaricato il modulo però vedete io potrei anche scaricare il modulo sì sì ma è bene Bluestack è più o meno come questo qui Nox l'ho provato rispetto a Bluestack è molto più veloce quindi dopo che ho visto Nox mi sono innamorato torniamo alla domanda di nuovo come si fa per mettere lo sfondo allora per mettere lo sfondo bisogna creare un materiale quindi rifaccio tutto quindi creo un materiale e lo chiamiamo sfondo 2 in questo no questo qui è leggerissimo questo qui è fatto proprio per fare dei giochi che cioè per me è velocissimo quindi se non lo conoscete si chiama Nox Play forse Nox Play APK on PC best Android questo qui gratuito eccetera eccetera funziona benissimo ed è eccezionale dunque cosa dicevo ah ecco uno sfondo 2 questo sfondo 2 dobbiamo prendere un'immagine faccio magari un'altra hdry haven e ne prendiamo sempre da lì un'altra immagine skies vabbè prendiamo questo l'ho appena preso non vorrei averlo preso due volte no è diverso sembra diverso andiamo vabbè sempre cielo ma no non deve essere quello allora supponiamo che questo sia diverso scaricate anche qui ecco vi raccomando di non prendere le risoluzioni più elevate sì 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 si può fare si può fare sia per andare per fare però ogni volta devi fare un build diverso nel senso che quando arrivi lì sul ok abbandono il parking questo rifaccio rivedere diciamo questa operazione abbandono il parking qui eccolo qua abbandono il parking questo qui ecco mi piacerebbe tanto che lo facesse ma non lo fa quindi vado sullo sfondo lo sfondo inspector albedo albedo come cavolo si chiama gli metto l'abbandoned park qua quindi questo è diventato così ok e poi però questo che era lo shader dobbiamo metterci lo shader skybox panoramic e abbiamo lo sfondo ok quindi una volta che c'è lo sfondo lì basta che vai sul lighting e gli cambi lo sfondo quindi invece di questo qua che abbiamo visto prima ci prendi quest'altro qua anzi addirittura qui mi sembra che lo metto addirittura semplicemente spostandolo lì è bravo è bravissimo cioè quindi ci sono delle cose molto molto intuitive con cui è possibile farlo allora riassumendo in questa prima lezione spero di non essere andato né troppo lento né troppo veloce cioè ditemi voi il senso della lezione dell'incontro è quello di darvi di darvi un po' di coraggio no a fare tutte queste cose perché magari vedendo il video su youtube fatto da stranieri da tra l'altro io ho fatto così di solito mi trovo un po' a disagio e li metto tutte così così le vedo se diminuiscono perché se no non ci capisco niente però voi potete scegliere il modo che volete comunque vi ho spiegato molto velocemente diciamo l'interfaccia quindi questa finestra la finestra della scena la finestra del gioco tutto il modo di pilotare di ragionare insomma lì dentro muoversi un pochino di costruire una scena con un cubo un pavimento e soprattutto con una foto 360 gradi sferica e poi vi ho fatto vedere come come produrre direttamente un'applicazione APK che è simile allora l'APK che vi ho fatto vedere la volta scorsa l'unica differenza aveva il cubo che si girava ma vi ho risparmiato la parte di scripting perché come sapete è sempre un pochino complicata allora io direi che se siete d'accordo beh questo potrebbe essere anche un compitino per la volta prossima cioè il fatto di prendere un'immagine 360 gradi aggiungete una scenina di vostro avverdimento la scenina può essere fatta con cubi con quadri quello che volete insomma con cose molto semplici se volete può essere fatta anche da blender nel senso se prendete blender poi nel momento in cui gli mettete blender qua dentro lui dovrebbe vedere direttamente blender è un po' come in sketchfab quindi potete addirittura mettere delle robe blender direttamente sì sì anzi l'idea è proprio quella di fare un tutt'uno cioè di dirvi nella prima lezione mi ha fatto una cosa allora questo qui prende il formato hdr che è un formato già specifico ma anche jpeg il png insomma un po' di tutto ma poi anche se non avesse il formato giusto ci sono miliardi di modi ah come mesh come mesh prende in teoria dovrebbe prendere anche il punto blend cioè ipoteticamente dovreste mettergli un punto blend qua sotto e lui vede quello che c'è dentro se non lo fa perché a volte non lo fa io faccio l'export via fbx fbx tipicamente e con eventualmente le texture poi le ricompongo però se riuscite effettivamente a farlo da blender e se funzionasse adesso qui ovviamente non ve l'ho fatto vedere sicuramente potrebbe essere la cosa più facile a me la cosa che mi era piaciuta molto appunto era questa cosa che sembrava tutto integrato con blender poi alla fine ho scoperto che in realtà non è che se gli mettete il blender lui lo capisce lui in pratica lui in pratica fa chiama blender si fa un export insomma si fa tutto il giro allora io direi adesso interrompo la registrazione che siamo già arrivati a un'ora e mezza ma meno di così non riuscivamo a vedere qualcosa di interessante siamo liberi aperti sul gruppo facebook e tutto e che per chi di voi volesse può venire domani al al space VR e faremo al space VR al tempo del coronavirus quindi vediamo un po' discutiamo e vediamo le possibilità allora l'incontro è ma allora per la scuola è sicuramente utile ma ci sono alcune attenzioni da fare che abbiamo discusso sul gruppo perché sul su al space VR ci girano anche più che altro secondo me sono ragazzini insomma delle persone che rompono le scatole quindi e tra l'altro provate a iscrivermi outer space VR cambiando la data di nascita questi lavori potrebbero essere portati in mondo virtuale tipo craft non tantissimo perché qui si usano proprio le mesh 360 gradi che non sono molto compatibili con con craft quindi diciamo che se volete lavorare in craft è meglio lavorarci da blender e no solo per finire il discorso di al space VR ho provato a inserirmi dicendo di avere di essere nato nel 2010 2009 non mi ha lasciato entrare ho provato a dire di aver 16 anni non mi ha lasciato entrare con 18 anni mi ha lasciato entrare quindi probabilmente loro si tutelano e probabilmente lasciano entrare specificamente persone maggiorenne questo non vieta che io ho visto ho sentito praticamente dei ragazzini che secondo me avranno sui 12 13 anni che entrono lì dentro comunque l'idea per cui lo stiamo proponendo noi adesso e sì magari anche dal punto di vista educational ma è sostanzialmente come un meccanismo di incontro in una comunità di persone interessate tipo noi docenti cioè voi docenti o altre persone curiose che girano su edu3d sì esplicitarlo effettivamente su bambini specie delle elementari delle medie probabilmente no con un po' d'attenzione forse potrebbe essere proposto alle scuole superiori ok allora vi saluto spengo la registrazione se ce la faccio ok Grazie a tutti.